Torniamo a parlare ancora una volta delle torri faro della circonvallazione. Ce ne sono diverse, dallo svincolo di via Belgio a quelle di via Lazio, Piazzale Einstein e via Oreto. Ebbene, sono tutte legate da un filo comune, non funzionano e vi spieghiamo perché. Purtroppo si tratta di strutture che sono state costruite negli anni 80 e oggi le componentistiche di cui sono formate non sono più in commercio. Tra l'altro hanno anche alcune componenti in amianto che non permettono la sostituzione. Andrebbero totalmente sostituite, andrebbero sostituite con strutture in efficientamento energetico, a LED, ma è una spesa chiaramente molto ingente che le sigue casse comunali non permettono di farla. Si possono fare attraverso i fondi del PNRR e noi ci auguriamo che quanto prima l'amministrazione comunale possa intervenire perché il problema lo vedete tutte le sere. Gli svincoli sono totalmente al buio, soprattutto quello di via Lazio che è anche uno svincolo pedonale e che quindi non dà la possibilità ai pedoni di attraversarlo in tutta sicurezza. Ma è un pericolo anche per le auto perché soprattutto quello di via Belgio, come potete vedere, ha anche l'ingresso per l'autostrada e quindi spesso e volentieri qui la sera si sfreccia a tutta velocità senza avere quelle che sono le condizioni minime per poter percorrere. Si tratta di un aereo che resta totalmente al buio, stesso problema vale per Vioreto e in parte anche per Piazzale Einstein. Quindi l'augurio che noi ci facciamo è che si possa intervenire quanto prima perché AMG Energia nel 2020 è intervenuta per la sostituzione di alcune lampade ma l'intervento è durato solo alcuni mesi e poi si è ritornato nuovamente al buio. Un mese fa si è intervenuto sulla terza torre faro dello svincolo via Belgio perché era necessario intervenire ma lì si sono potute sostituire poche lampade. Ecco perché adesso è più che altro necessario intervenire con un intervento definitivo e quindi con la sostituzione di tutte le torre faro della circonvallazione.